Va ora in onda il culto evangelico valdese, la cuora di Mauro Pons, pastore alla Chiesa di Pinerolo. Care amiche, cari amici, care sorelle, cari fratelli, benvenuto a questo appuntamento che rinnoviamo ogni domenica con la parola di Dio. Sappiamo che viviamo in un mondo difficile, siamo colpiti da tutte le notizie che arrivano da ogni parte e che rendono complessa la nostra vita. Sappiamo anche di aver bisogno di momenti in cui poterci concentrare su ciò che per noi potrebbe essere essenziale, la nostra anima, il nostro spirito, la nostra ricerca di fedeltà al Dio di Israele e al Dio di Gesù Cristo. Queste parole che condivideremo insieme oggi sono un tentativo di cercare nel silenzio della riflessione, nell'accoglienza di una parola che viene da lontano qualcosa che possa accompagnarci per la domenica che oggi viviamo e per i giorni successivi della prossima settimana. Leggiamo ora il Salmo 78, dal versetto 56 al 72. Ma essi tentarono il Dio Altissimo, si ribellarono e non osservarono i suoi statuti, si sviarono e furono sleali come i loro padri, si rivoltarono come un arco fallace, lo provocarono a ira con i loro alti luoghi, lo resero geloso con i loro idoli. Dio di si adirò ed ebbe per Israele grande avversione. Abbandonò il tabernacolo di Silo, la tenda in cui aveva abitato fra gli uomini. Lasciò condurre la sua forza in schiavitù e lasciò cadere la sua gloria in mano del demico. Abbandonò il suo popolo alla spada e si adirò contro la sua eredità. Il fuoco consumò i loro giovani e le loro vergini, non ebbero canto nuziale. I loro sacerdoti caddero di spada e le loro vedove non fecero lamento. Poi il Signore si risvegliò come dal sonno, simile a un prode che grida eccitato dal vino. Colpì sui nemici alle spalle, li coprì di eterna vergogna, ripudiò la tenda di Giuseppe e non scese la tribù di Efraim, ma elesse la tribù di Giuda. Il monte Sion, che egli amava, costruì il suo tempio, simile a luoghi altissimi, come la terra che egli ha fondato per sempre. Scelse Davide, suo servo, lo prese dagli ovili, lo portò via alle pecore che allattavano per pacere Giacobbe, suo popolo e Israele, sua eredità. Ed egli si curò di loro con un cuore integro e li guidò con mano sapiente. Giacobbe, suo servo, lo portò via alle pecore che all'interno di Giuseppe e l'interno di Giuseppe, se mi annuncia è calmo di sé, col corizzonte diventa nascuro, e la tempesta solgemo, che è un'esercito. Giacobbe, suo servo, lo portò via alle pecore che all'interno di Giuseppe e l'interno di Giuseppe, Giacobbe, suo servo, lo portò via alle pecore che all'interno di Giuseppe e l'interno di Giuseppe, Giacobbe, suo servo, lo portò via alle pecore che all'interno di Giuseppe e l'interno di Giuseppe e l'interno di Giuseppe, Giacobbe, suo servo, lo portò via alle pecore che all'interno di Giuseppe, Giacobbe, suo servo, lo portò via alle pecore che all'interno di Giuseppe, Leggiamo ora dal libro del profeta Esaia, al capitolo 29, i versetti da 17 a 24. Ancora un brevissimo tempo, e Libano sarà mutato in un frutteto, e il frutteto sarà considerato come una foresta. In quel giorno i sordi udranno le parole del libro, e, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore, e i più poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo Israele. Poiché il violento sarà scomparso, il beffardo non sarà più, e saranno distrutti tutti quelli che vegliano per commettere iniquità. Che condannano un uomo per una parola, che tendono tranelli a chi difende la causa alla porta, e violano il diritto del giusto per un nulla. Perciò, così dice il Signore, alla casa di Giacobbe, il Signore che riscattò Abramo, Giacobbe non avrà più da vergognarsi, e la sua faccia non impaliderà più. Poiché quando i suoi figli vedranno in mezzo a loro l'opera delle mie mani, santificheranno il mio nome, santificheranno il Santo di Giacobbe, e temeranno grandemente il Dio di Israele. I traviati di spirito impareranno la saggezza, e i mormoratori accetteranno l'istruzione. I profeti sono personaggi che rappresentano nella nostra fantasia, nel nostro immaginario, delle persone particolari, che hanno ricevuto una forte vocazione dal Dio di Israele, e che spesso, posti di fronte a questa chiamata, si sentono in difficoltà. Hanno la tentazione di rifiutare il compito che li investe, addirittura, in qualche caso, come in quello di Giona, di fuggire, di scappare dalla presenza del Dio di Israele, che qualche volta può diventare oppressiva, rischiosa. Isaia, il profeta su cui ci soffermeremo oggi, è un profeta che vive con spirito libero, e forse anche con un sentimento di ringraziamento alla vocazione che ha ricevuto, anche se questa vocazione è una vocazione che attraversa un momento difficile della storia di Israele, un momento che precede la grande crisi, da cui poi nascerà tutta l'esperienza della lettura e rilettura della promessa che Dio aveva fatto a Davide, di un regno che avrebbe avuto di fronte a sé solo un futuro prospero. Isaia è uno dei profeti che invece, con una abilità di analisi della situazione politica, economica, internazionale, in cui si colloca la storia dei regnanti di Israele, è chiamato a annunciare il disastro. Si fa spesso la battuta che i profeti sono profeti di sventura. In realtà sono delle persone a cui Dio chiede di portare un annuncio che è un annuncio di giudizio, e quindi una sorta di avvertimento su quello che potrebbe accadere se non ci fosse una conversione, un cambiamento, una trasformazione della propria mentalità, e anche una accettazione, in qualche modo, di ciò che Dio ha da dire su quel popolo. Diremmo noi oggi su noi stessi. Non essere disattenti al giudizio, ma prenderlo sul serio. Non pensare immediatamente al perdono, alla possibilità di un riscatto, ma soffermarsi prima ancora su ciò che ti sta per accadere, su ciò che sta per accadere al popolo di Israele, di cui ci sono tutti i segni negativi. Israele non è un veggente, non ha una sfera attraverso la quale può leggere il futuro. Semplicemente ha una parola che deve portare e che lo invita ad analizzare la storia del suo popolo. La storia passata e la storia presente, potendo in questo modo, incrociando i due dati, prevedere cosa accadrà nel futuro. Ma il testo di oggi ci dice che Isaia non è solo un profeta di sventura, perché è vero che egli annuncia un giudizio pesante sul popolo di Israele, sulla sua classe dirigente e sui suoi re. Ma allo stesso tempo, poiché il giudizio non può mai accompagnarsi con una maledizione, che può essere momentanea, Isaia annuncia anche un futuro di benedizione per chi ha sofferto, pagato i propri errori, per chi ha visto il suo orgoglio abbattuto, per chi pensava di essere dalla parte in cui Dio si sarebbe schierato e che non avrebbe mai sospettato che questo giudizio severo si potesse trasformare in un disastro sociale, politico, economico e anche spirituale. Dunque, il testo di oggi parla di due cose importanti. La prima cosa riguarda la possibilità di un reintegro del popolo di Israele nella sua terra. Qui è il ritorno. Isaia vive molti anni prima di questo avvenimento. Però, nella sua analisi della storia del popolo di Israele, ha chiaramente in testa il fatto che per quel popolo il perdono significa la possibilità di essere reintegrati nella propria storia, nelle proprie radici, nella propria realtà. Tornare nel territorio, nelle case che erano state abbandonate e occupate da altri, tornare a lavorare la campagna, tornare ad allevare, tornare alla ricostruzione di una società. Dall'altra parte, però, c'è anche un futuro complessivo che riguarda l'insieme di quella regione. Non si parla solo di Israele. Si parla, in una visione certo limitata per quel tempo, dell'intera Palestina, perché la liberazione che vive il popolo di Israele è una liberazione che non lo riguarda solo per quello che è la propria storia, ma ha una visione complessiva, dal Libano a tornare giù, fino ai confini con l'Egitto. tutta la regione sarà reintegrata da un punto di vista della creazione e tutto ciò che è stato distrutto dall'essere umano nelle sue varie battaglie, nei suoi vari scontri, nella sua sete di rapina, tutto sarà reintegrato. Allora, in questo tempo in cui abbiamo trascorso le settimane passate a sentire i drammi che i cambiamenti climatici hanno provocato nel nostro paese, questa Italia divisa a metà. I drammi che hanno portato, per esempio, all'alluvione nella Romagna, i drammi che raccogliamo ogni giorno sulle storie di una difficoltà a trovare la quadra sulla possibilità di essere un paese accogliente per tutte quelle persone che fuggono dalle guerre, dalle carestie, i cosiddetti migranti economici, in un paese come il nostro che non riusciamo più ad avere una prospettiva per il futuro perché siamo più vecchi e non sappiamo più fare dei figli, perché non ci sono le condizioni per fare dei figli e dunque la risorsa dell'immigrazione, appunto, potrebbe essere qualcosa che porta prosperità alla nostra nazione, anzi, come si dice oggi, patria. E se pensiamo alle nostre storie personali, alle nostre sconfitte, alle nostre fatiche, alla difficoltà che abbiamo a entrare in relazione con i nostri figli e i nostri figli, a come sia difficile gestire la qualità della vita delle nostre persone anziane, come siamo sempre di più una società incapace di farsi comunità solidale, se pensiamo a questo, ecco che il testo di Isaia ci dice una parola di speranza, perché è questo di cui noi abbiamo bisogno, care sorelle, cari fratelli, care amiche, cari amici, di speranza, di una visione del futuro o per il futuro. E dunque questo testo ci ricorda che ognuno e ognuna di noi, il nostro paese, l'Europa, l'intero mondo, ha bisogno di essere inserito all'interno di un processo di liberazione. Liberazione dai conflitti che ormai scoppiano all'interno dei nostri confini, liberazione dalla schiavitù che ci viene dall'economia globalizzata, liberazione dal fatto che la nostra vita non ha più un senso, è un significato. E allo stesso tempo, proprio in una situazione di crisi globale del clima, sentiamo anche noi questo annuncio che ci dice, guardate, il Libano tornerà ad essere un frutteto e anche la vostra anima forse porterà dei frutti che sono graditi al Dio di Israele, al Dio di Gesù Cristo. Amen e buona domenica. Dio di Gesù Cristo. Nella parante fedeltà ne moda, Codico e trini, nostro creatore. Tutta tua vita paghi noi la sete, Per grazia noi si compie il tuo voler, In ogni angustia cucita la prete, E ci sorregi lungo il tuo sentier. Preghiamo, Signore vogliamo vivere la tua comunione, Lascia che la nostra visione si allarghi, Di modo che possiamo riconoscere sempre nuove sfide, Nuovi spazi dove ci chiami a operare, Senza limitarci a sopravvivere fra le nostre quattro mura. Ti preghiamo in particolare per coloro che non hanno nessuno che pensi a loro, Privi di amicizia e di amori, Senza una famiglia alle spalle o una comunità che li sostenga. Per le persone anziane, nel loro caso di cura, che si sentono abbandonate. Per chi è malato e si trova da solo ad affrontare la malattia. Per chi è in carcere e non ha nessuno che li scriva o che vada a trovarlo. Signore, sono tante le persone che sono o si sentono sole. Fa che possiamo noi essere un volto, una voce o una mano amica, Per coloro che sono nella solitudine. Fa, Signore, che essi possano sentire la forza della tua presenza E ricavare con fiducia il tuo volto in quello di un fratello o di una sorella, Chi viene al loro incontro. Nel nome di Gesù che ci ha insegnato a dirti Padre nostro che sei nei cieli, Sia santificato il tuo nome, Venga al tuo regno, Sia fatta la tua volontà intera come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Rimettici a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci esplora la tentazione, ma liberaci dal male. Tu il regno, la potenza e la gloria, nei secoli e nei secoli. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese, a cura del pastore di Pinerolo Mauro Pons. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.